non è a punto giusto, Mr Benson vi saluta, ci vediamo il prossimo, ricordando di questi grandi dischi, sentiamo uno dei più belli assoli di Vidar, veramente spaventoso, questo è dedicato a Steve By, ti devi spaventare, ti devi spaventare, e questi vitalisti uomini, ma no, io vi do, quello che non è, ma cosa sta facendo adesso, si deve spaventare?